Ciao carissimi, si parla molto sull'imminente operazione militare che l'esercito ucraino è intento di svolgere nel Donbass, cercando di riprendere i territori che sono attualmente sotto il controllo della Federazione Russa. Si tratta di operazione che loro chiamano controoffensiva, come noi sappiamo attorno a questa controoffensiva si è parlato, si sono create le speculazioni, ormai da mese di gennaio si parla del fatto che l'Ucraina deve entrare in una fase necessaria per poter fornire all'esercito una dovuta spesa, una spinta per questa operazione, spinta economica, spinta in senso di quantità dei militari necessaria, raccolta delle munizioni e così via, quindi l'Ucraina si sta preparando. E poi ci sono ovviamente le opinioni, ci sono le espressioni da parte di vari esperti militari di diversi paesi statunitensi, britannici, francesi, ci sono diversi specialisti che parlano di questa futura iniziativa che probabilmente vedremo sul campo realizzarsi nei futuri giorni, settimane o mesi, noi non sappiamo quando dovrà avvenire perché le condizioni dell'esercito ucraino sono abbastanza critiche in questo momento, ovvero non ci sono forze necessarie per poter svolgere un dovuto movimento militare all'interno delle zone difese dalla Russia, però comunque nella guerra può succedere di tutto, possono ad esempio aver raccolto delle munizioni, aver nascosto degli armamenti che i russi non hanno scoperto, possono aver preparato dei piani strategici che sono a livello strategico, sono più forti e più importanti dei sistemi della difesa che hanno attuato i russi. Nella guerra può capitare qualsiasi cosa, è importante essere sempre attenti e capaci di analizzare ciò che sta accadendo, così giusto per capire in grande linea come sono le posizioni delle forze che si scontrano, perché ovviamente quando si parla di controoffensiva e poi ci mancano disperatamente le informazioni, si parla di una cosa vuota, perché per effettuare controoffensiva servono i numeri, servono importanti sistemi d'arma e così via. Io ho già di questo parlato nei video precedenti. Comunque è molto importante anche ascoltare quelli che sono le voci dei seri esperti analisti nell'ambito militare. Io ovviamente parlo di persone autorevoli, non sto parlando di personaggi che, come ad esempio abbiamo noi in Italia, in Occidente, anche in Russia, o nelle Stati America, ci sono dei personaggi che semplicemente raccolgono le informazioni in rete, poi stanno sul divano della mamma senza aver mai conosciuto le realtà di una guerra, senza aver mai compreso il senso del funzionamento di un sistema come l'esercito e loro pontificano su come funziona la guerra, come devono agire varie fazioni coinvolte in qualche conflitto e così via. Per carità, benvenga che le persone si esprimano, io rispetto le opinioni di tutti, però è molto importante dare spazio soprattutto a specialisti veri e seri. Quindi quando io sento parlare di un Pincopallino che sul suo blog raccontano come va la guerra, poi vado a cercare chi è questo Pincopallino, non ho mai fatto manco servizio militare, ovviamente rispetto per l'opinione di Pincopallino, perché siamo in democrazia e benvenga che Pincopallino esprime la sua opinione, anche se è distorta, anche se è un'opinione magari carente in qualche elementi specifici, però oltre a Pincopallino ci sono specialisti seri e veri che dedicano la loro vita a lavoro all'interno dell'informazione, all'interno dell'analisi militare e io credo che proprio loro sono quelli voci su quali sarebbe opportuno concentrarsi quando vogliamo scoprire qualcosa. Una di queste voci che io seguo con grande interesse e vorrei condividere con voi oggi una sua particolare e a mio avviso interessante opinione su ciò che sarà la controoffensiva ucraina, e un specialista russo che proviene da diplomazia militare. Io qua devo fare una premessa, io prendo le informazioni da tutte le parti, quindi da americani, da inglesi, da francesi, dai tedeschi, se c'è qualche opinione interessante anche in Italia, perché no? Specialisti italiani ce ne sono alcuni, pochissimi, ma ci sono alcuni che capiscono qualcosa nella strategia di guerra e fanno ogni tanto delle analisi interessanti. Per cui io invito le persone di comprendere l'importanza di pluralità delle voci. Quindi oggi vi parlo di questa persona che si chiama Alexander Bartosz, che io vorrei condividere con voi quello che è la sua opinione, ma questo non vuol dire che la sua opinione è l'unica verità che io vi cerco di spacciare questo Alessandro Bartosz per unico che riesce a fare le analisi. No, cari amici, per creare un'opinione obiettiva, per capire quello che sta succedendo veramente nel mondo, per avere una visione a 360 gradi è necessario vedere, ascoltare, analizzare tutto lo spazio dell'informazione che c'è, mettere da parte diciamo l'informazione un po' carente, tirar fuori e fare tesoro dell'informazione più obiettiva e piano piano, passo dopo passo, creare una sua visione su ciò che succede. Però non sperate e non pensate che ascoltando una voce, solo una persona, voi capirete tutto. Questo è un sbaglio. È uno sbaglio pensare che seguendo solo una persona, solo uno specialista, voi capirete tutto e lui vi dirà tutta la verità. Questo purtroppo non funziona così nel mondo dell'informazione. L'informazione non è una predica in chiesa, non c'è una verità assoluta che vi viene comunicata, una verità ecumenica. Nell'informazione dovete dedicare vostro tempo per tutto il giorno, quando avete spazio libero, conoscere le opinioni, le situazioni, le notizie, le analisi di persone più disparate e poi fare vostro tesoro, trovare la vostra via, perché nessuno vi deve dire come dovete pensare. Questa è una cosa importantissima. La libertà dell'informazione sta nel fatto che siete voi con la vostra mente e dovete trovare quella che è la chiave di lettura. Nessun Nicolai Lilin o Pinco Pallino della situazione dal divano di sua mamma vi deve raccontare la verità assoluta. Questo non esiste. Il massimo quello che posso fare io è suscitare la vostra curiosità, attirare la vostra attenzione verso una certa situazione e chiedere a voi di approfondire. Ma il discorso di approfondimento lo dovete fare voi, perché se voi vi abbandonerete totalmente alle conclusioni che vi dà il mainstream, è lì che avete perso, lì che siete preda di un sistema speculatorio. Quindi, perdonatemi questa lunga premessa, però doverosa, perché spesso mi capita anche leggendo certi commenti di capire che molte persone non hanno un'idea di che cos'è l'informazione, come funziona e come informarsi. Quindi è molto importante dire queste cose prima di approfondire una certa questione. Intanto cominciamo con Alexander Bartosz, che è Alexander Bartosz? Alexander Bartosz è un esperto militare indipendente, lui in Russia noto perché ha fatto diversi interessanti previsioni, sia sulla guerra in Ucraina, anche prima della guerra Ucraina. Lui è abbastanza critico anche nei sistemi di gestione dell'esercito russo. Lui non è un schierato megafono di propaganda putiniana, oppure non lo troverete magari nei talk show dove ci sono i propagandisti del Cremlino che cercano di raccontare che è l'esercito russo più forte del mondo, russi con le attome che distruggeranno tutto, che conquisteranno tutto il mondo e così via. Lui è una persona abbastanza paccata, è uno studioso serio, uno che arriva dall'ambito di diplomazia militare, quindi non è un esperto da divano, non è un personaggio che smanetta nell'internet, legge 10, 15, 20 notizie, le mette insieme, fa le sue conclusioni e poi fa i video su YouTube, come fa la gran parte di persone che si trovano su YouTube, me compreso, perché quello che noi facciamo qua su YouTube è quello, è questo, cioè noi mettiamo insieme un numero imprecisato di informazioni, questo dipende solo dalla disponibilità di ognuno di noi, del tempo che ha, le analizza e poi condivide le proprie opinioni. Questa persona va oltre, cioè lui è un vero specialista, uno che fa, che si occupa della questione militare, dell'esercito, della guerra, della geostrategia in maniera professionale, lui è un membro corrispondente dell'Accademia di scienze militari della Russia, quindi tutta la vita lui dedica lo studio di queste situazioni. Quando lui dà qualche previsione, quando lui condivide qualche osservazione, è sempre molto interessante leggere le sue opinioni, io lo faccio spesso, perché lui attraverso le sue analisi si percepisce l'ampiezza del pensiero, perché lui non parla solo di strettamente una situazione, come ad esempio controffensiva dell'esercito ucraino che deve avvenire, lui attraverso questa controffensiva è capace di spiegarvi tutto lo scenario, aprire un po' gli occhi su tutto quello che succede attorno, ed è molto interessante perché è una persona che ha a disposizione un'enorme quantità dei dati elaborati da un sistema scientifico. Non è un blogger, ma uno scienziato, e quindi lui di recente ha fatto un'interessante ricostruzione di quello che secondo lui sarà o potrà essere la controffensiva militare ucraina. Mentre di solito si parla di questa controffensiva divisa in tre fasi, in tre direzioni, che partono da nord-est, dal centro-est e da sud-est, lui dice che l'esercito ucraino il massimo del suo impegno militare, cioè il massimo della sua potenza militare concentrerà nella direzione del sud-est. Lui spiega questa cosa con la necessità degli ucraini ucraini di togliere la Crimea, ovvero il sud-est del territorio controllato dai russi, dal fornimento via terra. E quindi secondo lui la prima fase della spaccatura del fronte russo, del territorio controllato dai russi che gli ucraini vogliono attuare nella prossima loro iniziativa militare, sarà proprio quella legata alla zona di Kherson, Zaporogie, loro scenderanno giù verso Melitopol, poi verso Mariupol di nuovo, quindi la città di Mariupol anche rischierà di essere secondo lui sotto attacco ucraino, perché il loro intento è quello di tagliare totalmente, isolare la Crimea dal fornimento via terra e anche arrivando in quelle zone, conquistando quelle zone, l'esercito ucraino, secondo questo analista militare avrà la possibilità di posizionare i propri sistemi missilistici in una tale posizione da poter colpire il ponte che collega la Crimea con la terra e in questo modo isolare totalmente la Crimea dalla presenza dei russi, del rifornimento della Russia. Questo ovviamente secondo lui indebolirà fortemente la presenza del gruppo militare strategico russo sul territorio della Crimea, loro non riusciranno svolgere le iniziative tattico strategiche così come potrebbero svolgere avendo rifornimento via terra, saranno sicuramente carenti nella loro capacità difensiva e si apriranno le possibilità per la operazione di riconquista della Crimea da parte dell'esercito ucraino. Questo Alexander Bartosz dice che sarà possibile però se l'Occidente, ovvero il gruppo, il blocco della Nato, il gruppo militare che la Nato sta preparando in Ucraina, sarà ampiamente fornito non solo dai mezzi blindati, dai carri armati, dagli uomini, da specialisti nell'assalto delle posizioni difese. Lui spiega che per un movimento necessario, un movimento offensivo di qualità nelle posizioni dell'esercito russo, la Nato deve fornire una quantità necessaria degli aerei da guerra soprattutto per evitare che il gruppo che si muove sul terreno fosse difeso, fosse attaccato dall'aria. Quindi i militari ucraini che dovranno muoversi verso conquista dei territori, delle zone tenute dai russi, devono essere coperti dagli aerei della Nato e per evitare di essere colpiti dall'aeronautica russa. Allo stesso tempo dalla terra devono essere anche coperti, difesi da gruppi di artilleria. Manca purtroppo l'artilleria all'esercito ucraino per una cosa del genere e per questo motivo Bartosz dice che l'offensiva non sta cominciando adesso perché probabilmente i paesi della Nato non hanno ancora raccolto sul territorio ucraino la quantità necessaria dei sistemi di artilleria. In questi sistemi di artilleria potranno entrare sia obici fissi da campo sia obici semoventi come ad esempio quelli che adesso Italia ha fornito all'Ucraina. Noi sappiamo che c'è stato un altro rifornimento da parte dell'Italia degli obici italiani verso l'Ucraina e probabilmente questi obici parteciperanno a questa offensiva come una parte di copertura delle forze ucraine che saranno in movimento. Ad ogni caso siccome questi obici devono essere portati sul posto dispiegati, nascosti ovviamente perché tutto questo lavoro deve essere fatto in maniera abbastanza nascosta perché i russi hanno comunque anche i satelliti, loro vedono quello che sta accadendo sul territorio, loro raccolgono le informazioni, quindi la lentezza dell'esercito ucraino, l'effetto di staldo in cui è entrata questa operazione di controoffensiva che è stata così ampiamente dichiarata da tutti, probabilmente dovuta dal fatto che loro stanno raccogliendo ancora le forze e questo lavoro sta svolgendo in maniera molto lenta perché devono nascondere dai russi questi movimenti. I russi tra l'altro continuano a bombardare, continuano a fare danni perché come è successo di recente nella zona di Kharkiv quando i russi hanno bombardato un importante snodo ferroviario, tra l'altro non hanno colpito la ferrovia, i russi non hanno intenzione di distruggere la ferrovia perché finché sulla ferrovia viaggiano i mezzi di trasporto per loro è comodo che gli ucraini trasportano i mezzi, i sistemi militari fino alle zone dove vengono depositati questi mezzi e poi i russi colpiscono i depositi, in effetti a Kharkiv sono stati colpiti con i missili, li ci sono stati due missili personici e una serie di missili semplici, balistici, sono stati colpiti sia depositi dove c'erano le munizioni per sistemi di lancio missilistico multiplo i Mars, sia i colpi per l'artilleria che alcuni mezzi cingolati e c'è stata colpita anche la fabbrica dove venivano aggiustati alcuni mezzi cingolati, specialmente carri armati. Per questo motivo in una situazione del genere dove il nemico sta distruggendo anche in maniera abbastanza schematica le zone di deposito delle armi e delle munizioni, ovviamente il governo ucraino è costretto a rallentare le preparative per la controoffensiva e comunque ancora c'è sotto punto interrogativo la fase finale della preparazione perché non si sa se sono pronti o no, qua bisogna dire che ambiguità non manca da parte sia del governo ucraino sia da parte delle Stati Uniti d'America, perché mentre le autorità americane dicono che gli ucraini sono pronti ormai dal mese di gennaio di fare una controoffensiva, gli ucraini ucraini allo stesso tempo dicono di non essere pronti, per cui tra due c'è una discordia, poi gli ucraini ogni tanto dicono sì siamo pronti però avremo bisogno ancora di un po' di aerei, di altre cose, quindi da parte loro c'è un po' di ambiguità. E questo l'esperto militare Bartosz che sta spiegando in questi giorni, in questo periodo in maniera abbastanza dettagliata quello che sta succedendo in Ucraina con la controoffensiva, inoltre lui dice che controoffensiva non sarà in realtà divisa in tre fasi, in tre parti, ovvero quello che si diceva prima, quello che dicevano molti analisti anche statunitensi parlando del fatto che l'esercito ucraino si dividerà in tre gruppi d'assalto che si muoveranno verso nord-est, verso centro-est e verso sud-est e quindi si tratterà di tre grandi gruppi d'assalto che dovranno irrompere nelle posizioni dei russi e riconquistare tutto il Donbass, lui dice che questo è impossibile, lui dice che loro al massimo riusciranno a fare un'operazione grande nel sud-est e stanno preparando per questo, per isolare la Crimea, mentre su altre direzioni loro faranno dei piccoli contrattacchi, dei piccoli assalti, soprattutto per mantenere l'esercito russo concentrato su quei territori per spalmare l'esercito russo su una lunga linea di fronte per evitare che l'esercito russo riesca a compattare il proprio nucleo nella direzione dove loro, ovvero l'esercito ucraino, stanno per fare un contrattacco vero e proprio. E quindi si tratta di due direzioni, di nord-est e centro-est, ovvero la zona dove adesso si trova Bakhmut, dove ci sono grandi battaglie e zona della quale si parla spesso, lui dice che quella zona in realtà non sarà una zona vitale, importante, perché la vera importanza rappresenterà la direzione sud-est. Questa è l'opinione di Alexander Bartosz, io vi invito a tutti, soprattutto se qualcuno conosce la lingua russa, se ci sono quelli che non conoscono la lingua russa, comunque ci sono traduttori, potete tranquillamente trovare le opinioni, le interviste di questo analista analista in rete, tradurli e in qualche maniera arricchire il vostro campo informativo. Ovviamente, ripeto, io vi invito di informarvi da tutte le parti, pluralismo è la cosa più importante nel processo dell'informazione, perché aiuta a creare un'opinione obiettiva, quindi è un consiglio in più a voi che cercate di informarvi, ma assolutamente non è una mia volontà di spingere la propaganda di una parte o dell'altra, semplicemente vi invito di arricchire, ampliare il vostro sguardo, conoscendo anche le opinioni di questo interessantissimo e molto informato analista militare. Con questo, cari amici, io vi saluto, grazie per essere stati qui con me, iscrivetevi al mio canale YouTube, commentate per favore, esprimete le vostre opinioni, mettete il like o dislike, quello che volete, iscrivetevi anche, mettete il campanellino delle notifiche, perché così vi arrivano i messaggi quando io carico i miei nuovi video. Grazie per essere stati qui con me, vi mando un forte abrazo.